Lo stadio Lungo Bisenzio avrà i seggiolini della tribuna centrale della curva Matteo 27, tutti nuovi ed ecosostenibili. L'annuncio ieri sera nel corso della trasmissione è ciò che è fatto Bianco Azzurro da parte del sindaco di Prato, Matteo Biffoni. L'amministrazione questi seggiolini ce li cambia o no? Sì, quelli della tribuna noi li facciamo insieme a Nicola, poi arriveremo anche a quelli della curva. L'intervento di sostituzione dei seggiolini, che saranno in plastica riciclata e quindi ecosostenibili, sarà effettuata in collaborazione con Estra, come confermato dall'amministratore delegato della società Nicola Ciolini. Anche sui seggiolini abbiamo fatto un paio di proposte, ne stiamo parlando con il comune, con il presidente, potrebbe essere una cosa bellina, perché io ho proposto con Revet, l'azienda che ricicla la plastica, potremmo fare i seggiolini di plastica riciclata. Quindi ecosostenibili. Ecosostenibili, ne abbiamo già fatti altri, per altre, a Ponte d'Era per esempio, dove è sede a Revet. E quindi noi siamo ben lieti di accogliere. E quindi insomma su questo io spero che si possa chiudere velocemente, naturalmente ci mettiamo molto anche del nostro, quindi diventa anche molto sostenibile non solo ambientalmente ma anche economicamente. Quindi insomma credo che a questo punto i risultati meritano anche un premio in questo senso. L'altra novità riguarda l'illuminazione per il sussidiario del Lungo Bisenzio, che verrà ripristinata entro il mese di novembre. C'è già la progettazione, ragazzi le amministrazioni sono lenti, la bolletta non la pago io, nel senso io pago, anzi potresti fare uno sforzo anche da questo punto di vista. Detto questo, noi le amministrazioni si sono messi, le realizzazioni delle amministrazioni sono lente. Quindi stanno arrivando l'illuminazione? Sì, in tutta novembre c'è. Allora in tutta novembre, quindi rassicuriamo questo nostro amico da casa. Insomma, mentre il Prato risale in classifica con tre vittorie consecutive, lo stadio Lungo Bisenzio continua a rifarsi il look e diventare sempre più bello. E consentitecelo, ce n'era proprio bisogno.